Don't touch my water Vi ringrazio veramente di cuore per quello che avete fatto oggi, il contributo che tutti hanno dato, indipendentemente se sono stati fuori o dentro, noi siamo una comunità unita e unita andremo avanti perché siamo un patrimonio di questo territorio, un patrimonio di persone che ci hanno messo il cuore e ci continueranno a mettere il cuore.